Ah, che bella la nostra nuova casetta! Sono proprio soddisfatto, Ferre! Tu lo sei? Dimmi! Di cosa stai parlando? Qua ci sono solo dei sacchi dell'immondezza! Ma, Ferre, tutto questo è nostro! Ma non potevi comprare una casa! Hai comprato un terreno, Steph! Dovevi comprare una casa! Dove dormiamo adesso? Dove? La costruisco io! Puoi stare tranquilla! Oh, cavolo, Steph! Oh, cavolo! L'unico problema... Siamo messi malissimo! L'unico problema è che non abbiamo i soldi! Eh, appunto! E non abbiamo un lavoro, non abbiamo una casa, Steph! E te lo ricordo nuovamente! Dove dormirai stanotte o quando ti viene fame? Dove cucini, Steph? Beh, credo che lavoreremo e vivremo nel posto di lavoro, Ferre! Per ora è la nostra unica soluzione! Cioè, mi hai fatto venire qua per sgobbare tutto il giorno, Steph, in pratica! Sì, 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 sì! Però prima o poi avremo la casa dei sogni! La cosa importante, Ferre, è trovarci un lavorettino, lavorare bene, perché se ci licenziano è un casino, quindi dobbiamo lavorare bene, in modo figo e onesto, guadagnare i nostri soldi e costruire una casetta! Io ti dico già una cosa, il mio personaggio in questo stato è in questo momento allo stato di annoiato, Steph, solo perché ti ha sentito parlare, quindi... Ah, ah, ah! Andiamo, forza, seguimi! Ci tocca anche andare a piedi perché non abbiamo un'auto! Ovviamente, se non abbiamo una casa, figurati l'auto! Però vedi l'atto positivo della vita, ok? Camminare fa bene la salute! Chi va in auto si perde questa gioia! Guarda anche l'aria con gli alberi, Ferre, eh! Gli alberi, gli alberi che sembrano dei rombi, Steph, che belli, cavolo! Dimmi un po'! Non vedevo l'ora! Che lavoro vorresti fare? Non lo so, qualcosa che mi faccio guadagnare bene per avere subito soldi! Eh, vabbè! Prima di tutto penso di avere già fame, infatti sto morendo di fame e di noia, totalmente, quindi... Mi dispiace! Eccolo qua! Noi camminando, inutilmente! Ah, ma io tecnicamente faccio già il cassiere, Steph! No, vabbè! Io, allora, posso decidere se fare il cassiere, il pescatore, lavorare nella gelatteria, fare il magazziniere... Cos'è Green Clean? Bello, è un nuovo lavoro questo, Steph! Ah, a pulire! A pulire pagano bene, di solito! Taglia legna! Bello! Ecco, mi avete già conquistato! Cassiere, fare la pizza, trasportare la pizza, tagliare i capelli, fare il meccanico... E basta! Sai che ti dico? Quale hai scelto? Dato che devo imparare a costruire la casa, io voglio tagliare la legna. Vengo anche io, dai! Perché così imparo a costruire la casa, però c'è un problema. Dimmi! Io non ho esperienza, fare legnammeria, sia nel gioco, sia nella vita reale, sono negato. Io avevo esperienza solo nel fare il cassiere, a quanto pare, ma ho mollato tutto per venire a fare tagliare legna con te. Però sono molto carino! Aspetta, io sto ancora caricando! Vabbè, almeno sei caricato! Ho proprio la camicia da boscaiola classica! Guardami! Allora, andiamo! Ma che casino, ma che casino! No, Ferri, aspetta! Sto andando a tagliare la legna! Non credo funzioni così! Devi ascoltare questo grande esperto, parla con lui! È vero, è vero! Sì, sì, è lui! Allora, vedi? Welcome to lovely lumber! Addirittura! È amorevole! Allora, noi vogliamo diventare dei falegnami! Esatto! Quindi ci devi spiegare! Allora, dice di prendere un'acetta, ok? Di andare dentro e di iniziare a tagliare le alberi intorno! Ok! Avevi ragione! Ti avevo detto, Stef, non c'era bisogno di parlare con lui! Vai! Inizia a sgobba, Stef! Allora! O così? Speriamo paghi bene, almeno, sto lavoro! Perché comunque è molto faticoso! Beh! Cioè, rispetto ad altri è molto faticoso! Ma tu... Ma io sto prendendo legna! Ti sta andando bene? Ok, no, aspetta! L'hai visto, Stef? Cioè, è finito in acqua il mio albero! Anche il mio! Tu sei un po' un impostore! Dovevi dirci di non fare quelli attaccati all'acqua, scusami, eh! E se blocco questo e provo a venderglielo? No, non funziona! Forse dobbiamo limitarci... Allora, io provo a tagliare questo! A qua non ce n'è! Mettiti verso la strada, Stef, stavolta! Guarda, anch'io sono nelle spalle al mare! È impossibile! Potremmo scegliere un lavoro un po' più normale! Eh, quello che ti stavo dicendo io, Stef, non c'è bisogno di fatta sta roba, sta sta fatica! Ma stiamo guadagnando! Fammi vedere la sezione work! Ah! Sì! Sì! Evidentemente dobbiamo solo tagliare legna e poi ci pensa lui, capito? Ci penserà lui a tagliarla! Arrivano i castori, prendono la legna, e la portano alla falegnomeria! Ok? Quindi noi dobbiamo soltanto tagliare gli alberi! Beh, guarda, Fede, giuro, mi sembra un lavoro abbastanza semplice! Sei di undici, non credo che possiamo sbagliare nulla qua, no? No, penso che... E comunque io ho guadagnato 60 dollari per ora! Ah sì? Dove lo vedi? Basta che premi sul terzo tasto e poi vai su work! Ok! Hai tutte le informazioni del tuo lavoro! Ma io 40, cavolo! Sto... Sto lavorando poco! Sta battendo la fiacca! Però sto per morire di fame! Cioè, penso di dover andare a mangiarmi qualcosa, insomma! Eh, lo so, Fede, ma che facciamo? Andiamo al market? Sì! Al nostro primo giorno di lavoro? Ciao! Si arrabbia! Adesso ci andiamo anche vestiti da falegname! Andiamo e torniamo, ok? Sicura? Sto morendo di fame! Cioè, roba che, guarda, ti dico anche la percentuale per far capire che non sto mentendo! Ho il 6% di fame e il 2% di divertimento, quindi trapposto per morire che vorrei di noia! Fede, ma si arrabbia! Io te lo dico, cioè, al primo giorno, eh! Dovevamo venire qua che avevamo già mangiato! E io te l'ho detto, andiamo a mangiare, ma tu hai voluto subito lavorare perché c'hai tutta la foga di questa casa che devi costruire! Abbiamo bisogno di soldi! E anche di imparare la manodopera! Un buon posto dove mangiare? Un buon posto dove mangiare! Beh, guarda, lì c'è la pizza! Andiamo a mangiare pizza! Vuoi la pizza? Sì! Sì, dai! Meno male, meno male! Ma prendiamo anche a cena oggi, Fede, la pizza! Sì, ci sta! Ascoltami, ma secondo te possiamo tagliare? No, 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 è finita! Anche questi algri che andiamo in giro! È finito! Sono già felicissimo! Ah, apposta! Mangiamo la pizza! Proviamo? Eh... Beh, per una cosa del genere si può arrabbiare qualcuno, eh! Vai! Sembra di sì! Io provo da mangiare, Stef, che se no qua svengo in mezzo alla stella! Vediamo! Mi hanno anche promosso! Vedi che non si arrabbia! Allora, basta che ogni tanto ti metti così! Così lui pensa che siamo ancora a lavoro e noi mentre siamo in giro a far shopping! Ah, certo, vedi? È un lavoro magnifico! Vede, però... Non è proprio di buon gusto entrare in un ristorante con un'acetta in mano! Stanno tutti sorridendo! E allora non c'è problema, dai! Salve, buongiorno! Avrei bisogno di ordinare! Io voglio una pizza, grazie! Anch'io pizza! Ah, ok, mi hanno pagato, mi hanno fatto rifarzo! A me l'ho detto, cavolo! Ok, mangio, che sto morendo di fame qua! Quindi, 127 dollari guadagnati! Fede, dove sei? Eh, qui! Vieni, siediti vicino! No, l'ho già mangiata, Stef, ne ordino un'altra per farti venire! Eccoci qua, che bellini! Con le mani al cielo! Stef, sei pronto? Ok, almeno buono, dai! Ok, allora, con la fame io ho risolto! Io il divertimento! Il divertimento? Mi sto annoiando da morire! No, no, non devo cucinare! No, no, no! Oh, ma che è qua? Come possiamo divertirci? Non lo so! Discoteca, discoteca! C'è la discoteca! Ah, ok! Andiamo andiamo! Teoricamente, così compensiamo anche quello! Poi io avrei bisogno anche di dormire! Anche io! E a quel punto sono pronto per tornare al lavoro Steph ma dove vuoi dormire? In una panchina Ma si diverte così il mio personaggio? Eh Allora Vado qua a suonare Se suono secondo me mi diverto Sì io mi sto divertendo Che fai tu? No no Dovrei pagare per usare lo stereo E sta roba non mi piace Come fai a ballare? E premissi di te fai emotes e diverse dance Piano piano sto recuperando il fan Becchi dance Vuole? Fa molto ridere Però siamo carini eh No? Ah sì No più o meno Ma molto lentamente Sì si diverte poco Perché sa che non ci piace nella discoteca Esatto E' molto realistico sto gioco comunque Beh allora Se lo mettiamo a giocare i videogiochi Si diverte un po' Faccio un recap Anche a me mi dà fastidio Mamma mia Vado qua Buongiorno salve Ordina drink Una bloxicola Dai che costa poco Perfetto Me ne vado Arrivederci Non è che mi dà anche Energia No energia non me ne dà nulla Io provo a mettermi una panchina a dormire Ok No no Ti ci provo Io sto ancora ballando Sono talmente felice Guardami Che esco dalla discoteca ballando Ah ti vedo Basta Funziona funziona Qua recuperiamo l'energia Molto lentamente Ma la recuperiamo Sta iniziando a scendere l'igiene E io inizio a domandarmi Come potremmo risolvere Salve Portapizza Ci hai portato Salve Noi non abbiamo pagato La rapiniamo Steph No Dai poverina Sembra anche felice Lo so ma io volevo Prendere le pizze E' contenta What the hell Che vuole Oh che hai contro di noi Te ne vai Ci stai criticando Perché stiamo dormendo In una panchina E continua Steph bisogna ucciderla Aspetta Abbiamo delle armi Alla posso affrontare con Interact Donate money No 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 Cioè li dovrebbe donare a noi Che siamo poveri Give me money Esatto Vediamo Sto pure puzzando Secondo me è per quello Vediamo Questa è la tratta dalla puzza Why I don't have a house Non ho una casa Non ho una casa e sono povero Sono andato E' scappato Sì Che tristezza Doveva essere un bel episodio No Lavoriamo Facciamo una bella casettina E Ferre avevamo fame Allora adesso costruisci un garage Proprio minuscolo Dove metti un letto e una doccia Però guarda che I più grandi Della programmazione Sono nati proprio dai garage Quindi vivere in un garage Non è un difetto Ci spronerà a lavorare E a diventare ricchi E a tagliare la legna E a tagliare la legna Allora come entro Dovremo andare ad implorare A farci ridare il lavoro Build mod Ok allora E' buio Ferre mi stai lasciando a me costruire Sì allora tu costruisci la base Io eventualmente arredo Stef Ascolta ma secondo te Sì Dimmi cara Possiamo entrare abusivamente In un'altra casa No mi sa di no No mi sa che ti dovrebbero dare i permessi Cosa faccio Un monostanza per ora Sì per ora si sta Ok quindi monolocale Così È un po' storto È dritta È dritta È dritta È dritta Lo sai che L'unica cosa che faccio decente Ok quindi tetto Facciamo il più economico Quello proprio flat Ti posso anche aiutare Posso costruire insieme a te Bellissima sta roba Allora vediamo Allora dobbiamo fare attenzione A prendere cose abbastanza economiche Ok Comprato Ci serve una porta A priori da quello che puoi dire O non dire Ci serve una porta Aspetta Stef Però fai un tetto carino Ti prego No Fere Come no Fere dobbiamo pensare Soltanto a vivere Ok Adesso Aspetta No 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 Ci penso io al tetto Con i soldi che ho fatto Non costa molto il tetto Ok Costa pochino Allora Pavimento Ah c'è di un sacco di forme Bellino Ok Come lo vuoi Stef Arrotondato Spigoloso Un po' meno spigoloso Fere stupiscimi Io ne mentre sto facendo grandi cose in casa Decorate Ops Vabbè Andato Mi è partito sto tetto Stef Accontentiamoci Non è più soldi Accontentiamoci Mi è partito Come si cambiava il colore Non mi ricordo Eh Fere Eh Che vuoi Quanti soldi hai Eh Pochissimi Quanto Eh non mi ricordo Eh dove lo vedo Devo uscire da qui Eh sì C'è tipo mille Ok allora Ritorno in build mod Perché avevo In decorate Ok Ci serve Eh Una luce Da mettere dentro Ok dai Guarda così Un po' di luce c'è Un minimo sì Ok Poi decorate Ci serve quindi Un letto Il più economico possibile Che andremo a mettere qua Poi ci serve Eh Una doccia Sì Che dovrebbe essere in bathroom Dov'è 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 E non la vedo Non vedo il bagno Plumbing Trovato Prendi quello da 30 Stef Opla Dov'è In che sezione Tables C'è un tavolino da 30 Anzi due Basic tv stand Il secondo prendi Dai 30 e ce la dovremo cavare Ok Poverissimi Allora Adesso Sarà la cosa più triste del mondo Entrare in questa casa Io te lo dico Esattamente sì Ok Sei pronta Sì Sei pronta No Vado Vai A tv oppure Potevi metterla davanti al letto Almeno Stef Vabbè Ascolta Vado a farmi la doccia va Ok Io invece ho bisogno di guardare a tv Perché mi stavo annoiando troppo Ah Che bella la nostra vita In ogni caso Ci fermiamo così Con questa casetta Dove ci sono soltanto Tre oggetti Che sono i necessari Abbiamo un tetto sopra la testa Ci sono rimasti soltanto 300 soldi La casa è uno schifo Non abbiamo neanche le finestre Io in questo momento Sto puzzando Sto lasciando un Proprio laurea verde Da puzza Qua sotto Compaiono altri video Lasciate tanti like Se ci volete vedere Fare altri video In questa serie Dove piano piano Andiamo avanti Continuiamo la nostra vita E ci troviamo un nuovo lavoro Dato che siamo stati licenziati E ci vediamo in un prossimo video Ciao ciao